State per caso cercando di eliminare i crampi da fame che vi perseguitano? Avete sempre una voglia di dolce e una sensazione di insoddisfazione? In questo video cercherò di darvi 5 semplici e pratici consigli per controllare queste sensazioni e limitare il più possibile fino ad eliminarle. Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Io sono Pasquale, il vostro Nutrition e Lifestyle Coach. Oggi, come avevo pronunciato qualche tempo fa, volevo tradurre anche l'ultimo dei miei video che avevo fatto e girato solo precedentemente in inglese. Molto spesso mi trovo di fronte a persone disperate, sia quando vengono da me per una consulenza ma anche parlando ad esempio con amici, con parenti e con molta gente che mi gira intorno. Cioè non è che ce ne sia tante intorno, comunque capite no? Queste persone hanno continuamente presente una sensazione di fame. Sembra che questa non vada via mai. E soprattutto per quanto riguarda i crampi da zucchero, come una sensazione di continua dipendenza che non si riesce semplicemente ad eliminare. E poi mi sbatto un po' per dare magari i più consigli possibili perché la sensazione di fame, soprattutto per chi cerca di perdere peso, è come un po' un macigno sulla schiena. Un fardello che non si riesce mai a buttare giù. Ci stava praticamente di fronte a un incubo. Molte volte si mangia qualcosa ed inspiegabilmente dopo neanche mezz'ora si ritorna ad avere una fame da lupi e praticamente ci si mangerebbe un mammut. Così, su due piedi. E in questo caso capisco che molta gente logicamente si sente confusa. Non si capisce assolutamente la motivazione di tutto ciò. Per cui oggi volevo darvi 5 consigli pratici per venirvi in aiuto nel limite del possibile di quello che può essere un video. Partiamo da un semplice concetto. Il nostro corpo si affida allo zucchero per produrre energia. La molecola chiamata ATP, adesina trifosfato, è una sostanza chimica organica complessa responsabile appunto di fornire energia al nostro organismo. E per ottenere l'ATP, la glicolisi è il processo utilizzato dal nostro corpo per convertire il glucosio appunto in ATP e quindi in energia. Per cui lo zucchero è una componente fondamentale per la nostra sopravvivenza. Per cui non dobbiamo eliminare lo zucchero ma dobbiamo fornirlo nel modo corretto, da fonti corrette. Se invece arriva da fonti errate, le sensazioni di fame, stanchezza o depressione ed insoddisfazione tenderanno solo ad aumentare. Per cui vediamo ora di chiedere quali sono secondo me delle abitudini e dei consigli utili per poter sopperire a questo problema che ci impedisce praticamente di vivere una vita serena e al pieno delle nostre possibilità. Naturalmente non mi potrò risolvere completamente questo problema con un video e con questi semplici consigli. Ognuno di noi è una persona diversa e può avere diverse motivazioni dietro a questo problema. Per cui prendete questi consigli con delle pinze. Consiglio numero uno è di consumare gli alimenti giusti. Il consumo di alimenti che bilancino i livelli di zucchero nel sangue e che quindi tengano sotto controllo la produzione di insulina. Sono quelli diciamo da preferire. Ad esempio fonti sane di proteine, di grassi, di carboidrati e di fibre. Fonti proteiche come ad esempio i legumi, le uova, la carne con un contorno di verdure miste per fornire fibre, minerali e vitamine. Carboidrati che vengono ad esempio da panna integrale, pasta integrale o riso integrale. E fornire dei grassi sani come ad esempio gli semi, le noci miste, l'olio extravergine d'oliva oppure dell'avocado. Così facendo terrete il carico glicemico del pasto a livelli ottimali e avrete un senso di pienezza e di soddisfazione che vi terrà sazi per un periodo di tempo più lungo. Il cibo per cui non creerà dei picchi di insulina perché in un mix ben bilanciato come questo, come appena detto, che sia ricco di fibre, acqua, vitamine e sale minerali, questo contribuirà all'allentare l'assorbimento degli zuccheri all'interno del nostro organismo. Numero due, bere un bicchiere d'acqua. Quando avete fame, molte volte si tende a confondere una sensazione di fame con una sensazione di sete. Vi spiego, questo accade perché il nostro cervello fornisce a noi degli impulsi che non sempre noi riusciamo a decifrare correttamente. Il nostro stile di vita sedentario non corrisponde a ciò che il nostro corpo realmente è progettato, per cui possiamo fraintendere queste richieste di aiuto che il nostro cervello ci manda. Nel momento in cui avvertiamo quello che a noi sembra essere un crampo di fame, proviamo a bere magari un bel bicchiere d'acqua oppure un tè, logicamente senza zucchero. Se le sensazioni che ci sembrava essere quella di fame scompare in una decina di minuti, bene, allora evidentemente non avevamo fame. Per evitare questo tipo di situazione, bere costantemente acqua o liquidi durante l'intera giornata sarà un'ottima soluzione. Se siete interessati sull'argomento acqua, Stefano Vendrame qui su YouTube ha fatto una bella serie di video su questo argomento. Spero di trattarlo anch'io in un futuro, perché l'acqua è un elemento fondamentale per la nostra nutrizione che viene molto spesso sottovalutato. Per cui nel frattempo fatevi una bella scorpacciata con i video di Stefano Vendrame. Numero 3. Pianificare almeno 5 pasti al giorno. So che con questo concetto vi ho profanato le scatole, ma è il mio modo di vedere la cosa ed ho visto che funziona. Per cui tendo a consigliarlo spesso a tutti i miei clienti, come un'abitudine da prendere. Se fate 3 pasti principali, colazione, pranzo e cena e anche 2 sputtini, una a metà mattino e una a metà pomeriggio, trarete il vostro corpo sempre sotto costanti nutrimento e in questo modo eviterete delle improvvise cadute dei livelli di zucchero nel vostro sangue. E come ben tutti sapete, questo vi porta a sentirvi spossati e debilitati. Nel momento in cui poi vedrete del cibo, vi fionderete su come se non ci fosse un domani. Gli spuntini, secondo me, dovrebbero sempre contenere una fonte di proteine, una di grassi e una di corboidrati, in modo da poter fornire al vostro corpo tutte le esigenze nutrizionali di cui ho bisogno. Un'idea di spuntino ideale, credo spesso, come ho già consigliato in diversi video, è quello magari di mangiare uno yogurt intero, non zuccherato, a cui aggiungerete magari dei semi misti o delle noci miste, 15 grammi circa di questi, ed un frutto. Vi assicuro che il vostro senso di sazietà durerà molto più a lungo nel tempo. Consiglio numero 4 è di integrare con un multivitamine. Come spiegavo nel video di sabato scorso, a volte la intensa routine quotidiana mette a dura prova la vostra voglia e volontà di riuscire a mangiare qualcosa che sia sano ed equilibrato. Così il nostro corpo sarà e si troverà in una mancanza di adeguate quantità di nutrienti necessari, soprattutto di vitamine e di sali minerali necessari per una corretta funzionalità del nostro organismo. Un integratore multivitaminico preso giornalmente vi aiuterà sicuramente a ridurre il rischio di desiderare del cibo spazzatura, che può aumentare il livello di insulina velocemente e drasticamente o di fondarvi ad esempio sopra degli snack, delle merendine o dei succhi di frutta carichi di zuccheri che non faranno altro che peggiorare la vostra sensazione di fame. Vi lascio nel link della descrizione un integratore che io considero di buona qualità, che sono quelli della BioCare e inoltre vi rimando anche il video che ho realizzato di recente sugli integratori. Trovate il link da qualche parte qui di fianco a me. 5. Fare attività fisica nel modo corretto Mi spiego meglio. Attività fisica aerobica come ad esempio jogging, la bici ellittica o la bici in pianura sono attività che tengono ad utilizzare i processi aerobici per produrre energia, per cui necessitano di una quantità maggiore di zucchero per fornirci appunto le energie necessarie. Questo è l'opposto di quello che un'attività ad esempio anaerobica invece richiede. Aumentando questa necessità di energia per i processi aerobici aumenta anche la possibilità che ci venga voglia di consumare degli alimenti che siano eccessivamente zuccherati o delle bibite gassate che sono ricche di zucchero e noi vogliamo evitare tutto questo come la peste bubonica. Per cui il mio consiglio per evitare di cadere nell'eccesso di zucchero e nella crisi di fame è quello di concentrarsi su attività anaerobiche come ad esempio esercizi che prevedono lo sforzo muscolare, quello esplosivo, come sollevare dei pesi oppure allenarsi con degli sprint oppure anche optare su esercizi un po' meno esigenti come ad esempio lo yoga che porta anche degli alti benefici come una maggiore coordinazione a un rilassamento generale. Queste sono anche valide alternative. Questo naturalmente valido molto all'inizio quando ancora non abbiamo a pieno il controllo delle nostre azioni nel gestire la nostra alimentazione in modo corretto. Successivamente potete anche passare a delle attività di tipo aerobico. E voi soffrite spesso di crampi da fame? Avete una sensazione perenne di fame? Avete mai provato uno di questi consigli che vi ho appena dato oppure avete provato delle altre tecniche particolari per controllare la vostra sensazione di fame? Oppure avete anche mai consigliato un nutrizionista rispetto a questo problema? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordo che se ci sono argomenti particolari che vogliate che io tratti su questo canale fatemelo sapere nei commenti qui sotto oppure inviatemi anche un'email all'inizio infochiocciola healthmifood.com e vi risponderò a tutti. Prometto a tutti, tutti, tutti. Vi ricordo che tutti quanti potete anche seguire i miei podcast audio su iTunes, speaker e Spotify nel caso non abbiate tempo di guardare il video ma ovviamente solo ascoltare l'audio mentre fate qualcos'altro. Vi ricordo anche che potete seguirmi su tutti i social networks come Facebook, Instagram e Twitter e che in caso vogliate una consulenza in campo nutrizionale sono sempre qui a vostra disposizione. Per chi non vive come me in Irlanda come sempre potete anche contattarmi, consultarmi via Skype e potete anche visitare il mio sito internet www.healthmifood.com Anche per oggi è tutto e vi lascio andare. Mi rimasta solo la cosa più importante da dirvi che è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao! Ciao!